I protocolli in sé per sé sono tutti bellissimi, sono un libro dei sogni, recitano quello che tutti dovremmo fare e vorremmo ottenere. Il problema è poi chi controlla che queste cose siano fatte e allora io generalmente faccio dei protocolli, questo è un po' un cliché diciamo, però anche in questo caso voi vedrete c'è un tavolo che viene istituito per la verifica di questi incontri, degli effetti, dell'efficacia del contenuto del protocollo. Ma in generale io i protocolli li rendo smilzi perché secondo me è meglio mettere tre idee, tre di numero, ma che siano oggettivamente attuabili e che siano attuate piuttosto che fare il libro dei sogni. Diceva un procuratore molto mio amico che in genere i protocolli si fanno quando non si ha niente da dire, lo voglio proprio evitare, quindi non farò protocolli inutili. Il riferimento principale di questo protocollo è il protocollo che diciamo quadro è stato predisposto e siglato e firmato dal ministro Piantedosi unitamente alla federazione nazionale dei tabaccai. Sulla base di questo, che è uno schema piuttosto completo, abbiamo leggermente modificato il nostro protocollo provinciale inserendo un articolo, l'articolo 3, che secondo me è di fondamentale importanza. E cioè prevede che il territorio dell'Irpinia sia diviso in zone omogenee e con il questore, con le forze dell'ordine, la federazione provinciale nominerà dei referenti locali per ciascuna zona omogenea. Ci saranno quindi degli incontri specifici, omogenei, perché hanno caratteristiche problematiche anche analoghe e quindi ci saranno questi incontri formativi e informativi per capire come innanzitutto difendersi, auto diciamo difendersi dalle eventuali rapine, appunto eventi delittuosi e poi anche come dire come organizzare una videosorveglianza efficace quindi strumenti anche di appunto protezione passiva nei confronti dei propri negozi. I furti in abitazione io ho fatto, non più tardi di un mese fa, un comitato specifico perché se la vogliamo dire tutta quella è l'emergenza di questo territorio. In realtà i numeri non sono neanche eccessivi rispetto a questo, il che mi rende naturalmente molto felice, però è ovvio che tra l'altro è un reato odioso perché tocca le cose personali e l'intimità della propria abitazione e quindi chiaramente abbiamo messo in moto un dispositivo di controllo a monte e cioè sulle strade anche di accesso ai comuni maggiormente toccati da questo reato per cercare di impedire proprio che arrivino queste bande che non da una valutazione come dire fatta non dovrebbero essere locali, autottone ma provenire da regioni limitrofe o province limitrofe. Non è una competenza della prefettura in alcun modo, abbiamo fatto molti incontri e siamo riusciti anche a ottenere come dire dei buoni risultati ma ne abbiamo credo già parlato in precedenti situazioni per evitare che quantomeno l'alto calore avesse la possibilità di fare le gare per la manutenzione, per le botti, per la distribuzione dell'acqua. Vedo che però loro stanno andando avanti, si è un po' aperta la fase di recupero di una situazione di un po' di stallo e è ovvio, è evidente che quello è un problema che non riguarda soltanto gli espini ma riguarda molte regioni e molte province del nostro territorio. Bisogna prevedere degli interventi di grande respiro non si può pensare di andare avanti solo con la manutenzione. L'importanza non è data dalla firma, è data dal fatto che noi esistiamo e che abbiamo un ruolo nella società e che quindi le forze dell'ordine, lo stesso prefetto, hanno garantito che noi attraverso questa firma possiamo avere un protocollo che è diverso da quello ministeriale che ha firmato Pian De Tosi con il nostro presidente a Roma ma far sì che in un articolo dello stesso protocollo, all'articolo 3, le forze dell'ordine tutte auspicano di scendere sui territori di colloquiare con la nostra famiglia che è la famiglia dei tabaccai e i tabaccai dare eventualmente degli input e scambievoli con le forze dell'ordine in modo da cercare di reprimere il più possibile questi atti criminosi che comunque ci colpiscono. La federazione già di per sé è divisa per zone, cioè noi abbiamo il presidente provinciale che è la mia persona, che è la parte politica dopo che sui territori noi abbiamo 11 territori, non so la zona dell'Alto Baianese, la zona dell'Arianese, la zona del Bassavellino per cui in ogni zona noi abbiamo dei consiglieri e delegati che si occupano di quelle zone che poi fanno riferimento al presidente in questo caso saranno loro a occuparsi di questi incontri con le varie forze dell'ordine che si proporranno ripeto, come già detto precedentemente, questo lavoro è già stato iniziato con il colonne dell'Albanese tanto è vero che ad Ariano abbiamo fatto una riunione che ha avuto un buon successo anche per i colleghi perché il refri è dato dai colleghi, i colleghi sono soddisfatti perché scambiano delle idee, conoscono i comandanti di zona di periferia e le varie tenenze per cui sono cose importanti che secondo me hanno un loro valore.